ciao a tutti e tutte io sono fabio rovato come introdotto gentilmente sebastiano appunto sono referente della sezione locale il di est in provincia di padova per chi non sa dove è este un paesino sperduto e da quest'anno appunto da marzo direttore di italia linux society e di cui insomma spero di riuscire a fare bene anche in questo ambito e questa sera volevo parlare di servizi liberi che è un progetto che abbiamo lanciato a gennaio di quest'anno con il gruppo di este e sostanzialmente che cos'è allora è un insieme di software abbiamo chiamato servizi liberi intanto i nomi e abbiamo cercato di tenerli italiani giusto per differenziarsi visto che ormai termini inglesi o stranieri siamo pieni quindi torniamo al nostro buon italiano e anche il nome del dominio prendiamolo italiano è un insieme di software che si possono utilizzare da web quindi li abbiamo selezionati sono ovviamente software software libero sono software che non fanno profilazione per cui anche se li usate da web comunque non hanno nessun tipo di pubblicità mirata non c'è nessun tipo di profilazione e per cui sono molto attenti alla privacy dell'utente finale e in più sono gratuiti sia in niente soldi anche niente dati perché anche i dati hanno il loro valore quindi gratuiti in tutti i sensi la gratuita spesso viene data per scontata nel software libero ma diciamo che ai suoi costi mantenere un servizio di questo tipo nel nostro caso vedrete poi che comunque come siamo partiti non hanno costi altissimi per cui sono replicabili in maniera non così diciamo esosa per cui il nostro più che un progetto per dire siamo fighe abbiamo fatto questi servizi diamo questi servizi alle comunità cresceremo siamo un'azienda diventeremo un'spa più che altro il nostro è un progetto per far vedere che si possono fare cose belle cose interessanti e spingere anche altri a farlo non per creare un servizio centralizzato perché ne siamo diciamo anche un po stanchi ma per dare un inizio per stimolare l'iniziativa che anche altri lo replichino magari con altri software o altri tipi di servizi appunto perché lo abbiamo fatto necessità di strumenti digitali semplici liberi e inclusivi come ho detto prima anche il fatto di usare l'italiano e il fatto anche di averli tradotti alcuni di questi software qui perché non erano tutti in italiano permette alle persone che non hanno tanta pratica tante dimestichezza con il computer o con il telefono visto che si possono usare anche da telefono di poterli usare e capire cosa c'è scritto a video perché se la do mia mamma sono in inglese non ci sa fare nulla educazione anche controllo dei propri dati anche qui non mi dilungo oltre come detto prima sono non profilano non c'è pubblicità sono gestiti da una nostra piccola comunità per cui i dati sono l'ultima cosa che ci interessano e come vedete dopo i servizi che abbiamo caricato sono servizi quasi tutti dove non serve dare alcun dato a parte quello che degli rss e un altro dove serve per forza almeno un account però basta la mail non serve nient'altro e poi anche educazione alla collaborazione questa è una cosa che è venuta fuori diciamo non era proprio l'obiettivo iniziale però quando inizi a caricare dei software provarli farli provare le persone e vedi che magari hanno qualche problema qualche mancanza inizi anche a costruire un dialogo con gli sviluppatori e apri l'issue su github su github ovunque dove è ospitato il software e dai una mano a correggere la traduzione ecco che stimola la collaborazione quella era è stata una conseguenza che è arrivata dopo perché l'abbiamo fatto perché sembra tutto così gratis nel senso che ormai navighiamo in internet devo convertire un pdf lo carico sul cerco su motore di ricerca conversione pdf beh ecco il primo vai carica il pdf che carichi boh viene cancellato che fine fa per cui sì bello è gratis in euro però in dati non lo sappiamo alcune premesse però prima di fare un passetto avanti allora premettiamo una cosa il software cosiddetto in cloud o sul server di altri anche se è libero non è verificabile quindi non c'è alternativa o ti fidi o non lo usi se la comunità dimensioni contenute diciamo che puoi scegliere di fidarti perché magari conosci chi mantiene questi i progetti se non vi fidate prendete il stessi software che abbiamo usato noi o altri ve li ospitate sui vostri server e state tranquilli insomma penso che si possa avere una certa tranquillità e poi perché siamo un po tra virgolette talebani qualsiasi cosa collegata al big tech il font di google inclusi in qualsiasi di questi pacchetti software qui non ci piacciono per cui li abbiamo selezionati alcuni avevano qualche inclusione di risorse non libere per cui li abbiamo scartati qui prima di vedere cosa c'è sui servizi liberi sono andato a vedere per esempio visto che sui servizi liberi abbiamo un servizio per convertire pdf manipolare pdf più che altro sono andato a vedere le alternative che c'erano allora ho trovato questo qui soda pdf puntocom sono a vedere ok software proprietario spoiler sono tutti proprietari quelli che vediamo e posizione server sconosciuta perché dietro cloudflare nomi di lungo che qui su cloudflare specie di man in the middle mondiale comunque lasciamo perdere azienda in canada però c'è scritto che non sede in francia non ho capito dove hanno la sede google tag assistant quindi non so cosa tracci o che pubblicità inietti dentro le pagine e poi per leggerla privacy policy ho dovuto disattivare la d blocker e questo non pensavo di scriverlo però vi giuro che è stato così e vabbè poi c'è scritta una cosa che non ho capito può mantenere i file degli utenti fino a 24 ore per cadute di connessione cioè io carico un pdf per convertirlo loro per sicurezza se mi cade la connessione lo tengono lì 24 ore che riprovo c'è tutto il giorno ricaricalo ok questo qui online cpdf software proprietario server in austria progetto privato con sede in austria ho visto che è un ragazzo che l'ha sviluppato per passione personale poteva caricarlo su kit magari qualcuno gli dava anche una mano e google adsense per la pubblicità personalizzata quindi tracciati anche qui ai love pdf chi lo conosce probabilmente l'avete sentito ok che questo software proprietario azienda in spagna posizione server sconosciuta quindi anche qua dietro cloud per chi sa dov'è google analytics privacy policy su ubenda quindi avs amazon può mantenere i file degli utenti fino a 24 ore ok poi non so se si vede c'era scritto in un punto in alcuni scenarii potremmo fermare smettere di offrire i servizi così una frase buttata lì in mezzo i termini condizioni d'uso vabbè era simpatico per non riportarla cloud convert.com proprietario azienda germania us e riconosce la bandiera ecco cipro google analytics e vs sono tutti fatti uguali e adesso vediamo servizi liberi allora sui servizi liberi e poi vado direttamente al sito allora per l'home page del sito abbiamo utilizzato questa applicazione qui che si chiama homar è un'applicazione per creare pagine web a pulsantoni infatti dopo vi farò vedere la pagina principale dei servizi liberi e anche le pagine secondarie hanno uno stile tipo dashboard pannello di controllo strumenti per manipolare pdf stirling pdf va il progetto fanno di rilasci anche due tre volte al mese a volte anche quattro anche cinque a volte e di recente ho notato che hanno iniziato anche loro a fornire servizi a pagamento per aziende infatti ho visto che erano molto molto attivi per cui probabilmente dietro c'è qualche professionista qualche azienda che comunque rilascia il progetto con licenza libera per cui ben venga c'è un'applicazione per le ricette le ricette di cucina che si chiama meli e anche questa carina poi la vediamo insieme c'è un traduttore per tradurre testi da una lingua un'altra qui abbiamo usato libre translate c'è ne ho trovati diversi di aggregatori rss chi ha mai usato un aggregatore rss per leggere notizie ok bene e questo è il mio pallino perché molte persone che conosco si si informano sui social per cui social quelli commerciali per cui sappiamo che gli algoritmi tendono a proporre contenuti sempre in base alle proprie preferenze per cui diciamo che informarsi in questo modo non è proprio un modo libero e incondizionato tornare ai vecchi feeder ss significa selezionare delle fonti a volte posso vedere notizie che non mi piacciono che non rispettano le mie preferenze ma meglio così così c'è un po anche di pluralità ecco nell'informarsi note sicure emelig questo interessante perché emelig è un'applicazione web se non ricordo male è sviluppata da due ragazzi norvegesi come progetto a scuola è un'applicazione che ho iniziato a usare anch'io al lavoro praticamente quando invio ad esempio ai clienti degli accessi tipo invio un indirizzo l'utente la password gli mando per mail l'indirizzo l'utente come password inserisco un link in modo che quando apre il link vede la password e si autodistrugge il link su note sicure emelig si può usare questo tipo di strumento qui e poi sondaggi aggiunto qualche mese fa ci possono creare sondaggi anche qui beat pole è un progetto tedesco di due ragazzi tedeschi anche questi l'hanno fatto all'università e anche loro avevano una sorta di portale stile servizi libri ho scoperto poi beat pole era uno di questi programmi qui permette di creare sondaggi proprio i classici sondaggi tipo che cosa ti piace cosa vuoi mangiare stasera che cosa vuoi vabbè non sono sondaggi che si mandano così ok per fare un esempio e però si possono fare anche sondaggi per dire quando facciamo una videochiamata quando ci troviamo in tal posto tu puoi scegliere delle date e anche degli orari poi ciascuno vota può votare sì no forse sì meglio di no ha già delle scelte rimpostate di questo tipo e adesso andiamo a provarle ci so che zughi mi sta guardando dicendo non fanno ridere quello ok si abbiamo fatto la delibera per le gif animate allora questa è l'home page di servizi liberi e come dicevo questo qui è homar anche questa questa qui è un'applicazione comunque open che abbiamo usato per costruire il sito qui c'è una lista delle applicazioni diciamo che abbiamo configurato con il link al progetto originale e poi ci sono anche le statistiche di utilizzo visto che non c'è diciamo nulla da nascondere anzi magari fa piacere a vedere che sono usate tipo questo qui sono le statistiche di utilizzo dello strumento per i pdf non so perché c'è stato un picco a maggio 7000 visualizzazioni 4000 2000 ad agosto vabbè poi stanno scendendo anche umami ecco non l'ho menzionato però è bene usato per le statistiche di accesso a servizi liberi e vabbè poi l'avrei menzionato dopo comunque c'è scritto qui che la sezione locale di ilse di sandonà ci mette a disposizione kuma che è un software per monitorare la time c'è il tempo in cui un sito rimane su o va giù per cui li ringrazio visto che siamo qui ospiti e così sappiamo quando vanno giù i servizi per intervenire e poi vai alle applicazioni qui abbiamo la lista allora le scorriamo brevemente giusto per vederle una o d'una strumenti pdf questo è stilling pdf adesso mi rendo conto non è che cerchiamo pdf di prova allora questo qui ha più di 50 strumenti per manipolare pdf semplice visualizzazione rispetto a multifunzione unisci ruota riordina pagine rimuovi pagine unisci ritaglia vediamo qualcuno di interessante aggiungi numeri di pagina se avete pdf senza numerazione lo caricate sfoglia poi ne carico uno da immagine a pdf e viceversa c'è uno cr pulisci scansioni che però credo abbia ancora un problemino c'è questo qui interessante che io l'ho usato firma vediamo su qualcosa ho fatto test prendiamo questo qui c'è la possibilità di applicare una firma o disegnandola sopra adesso col mouse magari non è proprio così ridimensionate la mettete qua in fondo scarica in questo momento genera il pdf con la firma lo invia al browser per cui vedete che me l'ha già scaricato e sul server non tiene nulla lo converte e lo fa scaricare al momento altre cose interessanti beh vi volevo far vedere la firma anche questo qui non so se me lo prende con questo pdf proviamo redazione automatica coder dojo este libero vediamo se ho beccato delle parole ok qui sotto c'era il seste è nascosto la parola per cui se avete documenti riservati che dovete mandare in giro nascondere dei nomi nascondere delle parole che non devono uscire avete visto caricate il pdf inserite le parole da nascondere queste vengono rimosse e poi ce ne sono molte molte altre l'ho perso il conto erano 54 l'ultima volta sono più di 50 comunque poi ricette di cucina questo qui ve lo mostro un po' rapidamente e adesso qui c'è il primo account creato ci sono tutte le ricette del primo account che è stato creato per cui le potete consultare ecco su questo se vi registrate vi fate il vostro profilo incaricate le vostre ricette la cosa interessante è che poi consultandole potete spuntare gli ingredienti usati spuntare tutti i passaggi che sono stati fatti per la ricetta vabbè qui c'è un cronometro anche se direi che le lasciamo perdere potete creare le vostre ricette condividerle con una cerchia di altre persone e la cosa interessante che adesso qui non sono logato se trovate una ricetta interessante su un blog di cucina potete prendere l'indirizzo fare import ad url lui riconosce i testi e li divide così separa gli ingredienti e separa i vari step per creare la ricetta poi traduttore vabbè allora sì è un semplice traduttore diciamo che non c'è tantissimo da mostrare aggregatore di notizie ecco questo qui ad esempio è il mio account questo qui lo utilizzo lo utilizzo anch'io personalmente infatti mi sono fatto un po' di categorie nave affondata ok di stasera questo aspetta quanta calcio beh questa è la gazzetta ah vabbè avevo aggiunto la gazzetta non ero dimenticato un po' insomma di notizie c'è anche dove 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 allora mi sembra di no puoi creare però un indirizzo che tu condividi dove selezioni se non ricordo male delle categorie dei tuoi feed per dire guarda io seguo questi ti consiglio questo 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 crei un feed lo dai però lo carica sì su un'altra applicazione ecco poi abbiamo note sicure quello che vi spiegavo prima per cui password ciccio ciccio non so più scrivere qua impostiamo la durata oppure le visualizzazioni massime genera un indirizzo genera addirittura il QR code copio questo indirizzo e se vado in modalità anonima invio visualizza dati segreti password ciccio ciccio se accede una seconda volta boom secret not found è stato cancellato automaticamente e poi abbiamo sondaggi anche questo qui carino quello che vi dicevo prima ad esempio data ora quando mangiamo domani all'esc crea ok mi sono mangiato il giorno perché ho detto domani facciamo che mettiamo anche domenica facciamo le 12 poi aggiungiamo 12 e 30 14 avanti qui mi mostra le combinazioni quindi il 21 e il 22 12 e 12 e 13 e 14 domenica togliamo 12 e 13 e 14 lasciamo solo 12 avanti ok queste sono le combinazioni per cui vado su vota io posso mandare in giro questo link e ciascuno voterà ok le 12 sì forse forse meglio di no Fabio posso fare anche il voto anonimo salva voto e poi invio il link per far votare altre persone per cui anche qui una dita anonima vota sì meglio di no forse forse ciccio la maggior parte ha scelto sabato alle 12 anche qui c'è la possibilità di creare un account per registrarsi ho lasciato configurato in modo che si potesse usare senza creare per forza account così accessibile senza tante registrazioni e questi sono diciamo una rapida anteprima di che cosa sono piani per l'espansione futura allora come dicevo prima sì probabilmente caricheremo altri servizi altri software al momento ne avevamo selezionati alcuni li abbiamo caricati provati non ci piacevano li abbiamo tolti non li abbiamo neanche pubblicizzati vorremmo sceglierli accuratamente che siano anche cose utili ecco l'idea è di riuscire a portarli a persone che diciamo non siano programatori o tecnici ma che siano semplici da usare per raggiungere un pubblico più ampio e poi una cosa interessante come dicevo anche prima me lo sono spoglierato comunque abbiamo contribuito molto alle traduzioni perché appunto molti non erano completamente tradotti e molti non erano neanche proprio non c'era neanche proprio di italiano per cui abbiamo contribuito veramente tanto alle traduzioni e in alcuni casi anche suggerito nuove funzionalità come formare a qualcuno interessa anche se non so come funziona su still in pdf si possono firmare digitalmente i pdf caricando il file della firma adesso non so bene come funziona però era stato chiesto agli sviluppatori e hanno pubblicato l'aggiornamento con questa funzione alcuni dettagli tecnici siamo quasi addirittura d'arrivo chi ce l'ha detto no no ok dns su seflow l'avevo provato tempo fa sono dato tanto il dns non abbiamo mai avuto particolari problemi su consiglio abbiamo preso una vps su contabo con 4 core 6 giga di ram 100 giga di spazio che sono più che sufficienti basato su una debian 12 backup cifrato su backblades anche qui c'è la versione gratuita fino a 10 giga diciamo ci bastano per adesso per cui la soluzione backup è ancora diciamo c'è ma non è se dovessero crescere i dati insomma dobbiamo trovare un'altra soluzione infrastruttura lato più software sistemistico ogni servizio è un container su docker per cui sono tutti diciamo isolati abbiamo utilizzato portainer più che altro per un discorso di semplicità è un'interfaccia web di docker per cui si gestisce via web i container questo è il suo pro e il suo contro sono auto aggiornati grazie a watchtower che è un'immagine docker che permette di verificare e aggiornare periodicamente i container docker quindi le applicazioni si aggiornano automaticamente almeno una volta al giorno poi abbiamo usato nginx proxy manager come reverse proxy perché anche questo qui è un'interfaccia molto semplice via web da usare per la manutenzione e ha anche il fatto che gestisce i certificati SSL con chatbot e si autorinnovano il backup è gestito anche questo qui guardando un video di moro linux ho voluto provarlo effettivamente è molto fico è backrest è un'interfaccia web per restic poi appunto per i backup giusto per non avere email che si mescolano tutte le altre email ho provato ntfi.sh è anche il nome del sito per cui se ci andate dateci un'occhiata lo potete ospitare anche su un vostro pc o server è un sistema per cui voi fate una chiamata HTTP e questo vi spara la notifica sul telefono ovviamente sul telefono dovete avere l'applicazione installata però molto molto semplice e poi abbiamo sperimentato un po' con Docker mail server e anche questo qui è un pacchetto per gestire un mail server minimale giusto per fare la casella classica non reply chiocciola servizi liberi non rispondere chiocciola servizi liberi lo cambiamo e aggiungo le ultimissime cose da questa esperienza fatta a livello volontario gratuitamente diciamo in maniera un po' amatoriale ma comunque funzionante possono nascere tante opportunità chi chi ha a cuore software libero non vuole dare servizi software che tracciano le persone vuole dare servizi etici può costruirci anche un supporto professionale creare una sua istanza e dare ad esempio lo strumento dei PDF magari alle scuole piuttosto che alle aziende magari facendo pagare un canone dando mari funzionalità o supporto aggiuntivo e ovviamente poi se ci si guadagna le donazioni sono ben accette verso chi sviluppa quel software e poi si rimane in contatto come dicevo prima anche alle comunità di chi sviluppa e soprattutto si imparano anche molte cose sia nelle traduzioni che anche nei linguaggi per concludere io vi suggerisco se vi piace il progetto intanto di condividerlo e diffonderlo se riuscite a supportare il progetto a breve pubblicizzeremo un po' di più il fatto che si possa sostenere un po' economicamente o anche almeno i software che abbiamo usato contribuite anche voi non per forza i software che abbiamo caricato noi ma qualsiasi software lo sviluppo le traduzioni i test anche questi sono molto molto utili e dateci tranquillamente una mano consigli da qualsiasi punto di vista sia su software da installare che un riscontro questo fa schifo usate quest'altro per gli RSS ce ne erano parecchi diciamo e poi voglio concludere con un po' di ringraziamenti allora ringrazio IIS in realtà io sono entrato in IIS a marzo e il progetto è di gennaio quindi ringrazio per i 68 euro all'anno costosissimo progetto che ha ideato il logo del gruppo di Este quindi Michele Gianni Andrea Carlo e altri di Elce Este Albano l'ho menzionato a parte perché lui ha tradotto un sacco e Emiliano lo sa il Sandonà di Piave come ho detto prima per Cuma che è il servizio di uptime e per l'ESC ovviamente e poi che ha creduto nel progetto per portare idee costruttive e permetterci di realizzarlo e essere qua stasera a presentarlo questi sono i nostri contatti quindi abbiamo ripositori su Git poi se volete li mando sul gruppo il nostro gruppo Telegram il canale il gruppo Matrix e questo è tutto grazie tra tanti servizi che ci sono vorrei sapere se ce n'è uno mi farebbe molto comodo per tipo prenotare delle postazioni ti faccio l'esempio a me piace un sacco cucinare quindi mi capita in due tre settimane di fare tre quattro cene a casa mia e dire amici ci sono queste date però ho sette posti liberi ok quindi ditemi chi c'è andate su questo sito questo è l'evento questo tipo una gestione eventi registrazione potrebbe essere comodo anche per l'ESC stesso insomma eh sì un virtual queue manager sì può essere che ci sia possiamo dare un'occhiata no così su due piedi non ne conosco perché mi piacerebbe postarlo da me o magari anche proporlo anche in giro potrebbe essere comodo anche per clienti alla fin fine sì 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 mi è capitato cercato su github non ho trovato nulla ho pensato di svilupparlo io ma detto in onestà un po' la voglia il tempo mi è mancato quindi però grazie se non lo conosci neanche tu vuol dire che alla fin fine probabilmente se c'è è ben nascosto sì magari non me l'ha mai chiesto nessuno quindi non mi è venuto in mente però dopo posso mandare nel gruppo dell'ESC due link che uso per sfogliare un po' questi software qua da installare ecco ho trovato due siti dove sono pieni sono anche ben categorizzati quindi magari si trova qualcosa lì domande aggiungo allora solo se non ci sono domande che nella burocrazia di tutti i giorni trovo comodissimo il tuo tool dei pdf soprattutto quello comprimi pdf perché ha l'opzione dammi l'obiettivo tuo quindi se trovi il sito sfigato della pubblica amministrazione che ti rompe le scatole dicendo massimo pdf 8.3 mega massimo e il tuo però è 35 mega tu gli dici dal lato web ok il mio limite massimo 8.3 e lui te la autoscala in più passaggi per far sì che arrivi a quello con la massima qualità possibile per raggiungere quell'obiettivo che è una cagata pazzesca che ti sa effettivamente ti salva da lanciare la riga di comando varie cose vari tentativi finché non arrivi a 8.3 mega inferiori esattamente proprio quel campo lì la modalità automatica di compressione cioè è una cosa easy che ti salva dalla burocrazia quotidiana ogni secondo per quanto mi riguarda quindi grazie styling pdf per questo per questo guardando il progetto mi è venuto in mente Framasoft francese che diciamo forse ha le stesse finalità ha intercettato magari software diversi perché loro vogliono degugolizzare il mondo però forse le finalità alla fine l'obiettivo un pochino è comune li avete contattati vi siete ispirati a loro un po' ispirati sì contattati no però un po' di ispirazione sì quello sì di ispirazione di ispirazione di ispirazione